Ciao e benvenuto. Oggi parliamo di impostazione, impostazione della postura e impostazione delle mani. Vediamo innanzitutto qual è la posizione corretta o una posizione corretta con cui imbracciare la chitarra. Noi lavoreremo principalmente con la chitarra appoggiata sulla gamba destra, se siamo destri di mano. Mentre la posizione che prevede la chitarra appoggiata sulla gamba sinistra e inclinata in questo modo è più legata al mondo della chitarra classica. Ma noi staremo su una posizione più standard, più da musica rock, da musica leggera e dal mio punto di vista anche più comoda. Quindi chitarra appoggiata sulla gamba destra che tra l'altro è la posizione che si adatta meglio poi dopo anche alla postura in piedi con la tracolla che tiene la chitarra sollevata. Quindi appoggiare sulla gamba destra è quello che permette di avere la posizione più simile, quindi di non trovarsi poi a disagio quando ci si alza in piedi. La situazione è sicuramente compatibile. Passiamo invece alla posizione delle mani. Allora vediamo un pochino come si tiene il plettro. Il plettro va tenuto tra il dito pollice e il dito indice della mano destra. Quindi ti consiglio di piegare le dita all'interno della mano, un po' con la mano quasi chiusa a pugno, d'accordo? Le dita flesse in questo modo. Appoggiare il plettro che guarda verso la chitarra, con la punta rivolta verso la chitarra, appoggiarlo sull'indice flesse e poi chiudere con il pollice sopra. Va bene? La presa del plettro deve essere salda, quindi non devi tenere il plettro da un bordo così. Devi appoggiare il centro del pollice sul centro del plettro, quindi una presa salda, che non significa però stringere il plettro. Salda significa che sia una presa sicura, ma non devi stringere eccessivamente. Quando senti la mano che si rigidisce perché stai stringendo troppo il plettro, rilassala. Ok? Ecco, le dita della mano destra. Non esiste una posizione corretta e universale, quindi che tu tenga le dita anche chiuse nella mano, che le tenga aperte e rilassate, può funzionare. Mi raccomando anche qui che le dita siano comunque rilassate, per quanto chiuse o per quanto aperte. Va bene? Per quanto riguarda la posizione del braccio destro, la cosa migliore è agganciare il gomito proprio in questo modo sull'angolo della cassa e lasciare l'avambraccio un pochino a penzoloni, rilassato, di modo che possa muoversi. Va bene? Un'ultima menzione per quanto riguarda la distanza del polso dalla cassa. Ti faccio vedere. Allora, alcuni chitarristi suonano con il polso molto vicino e schiacciato sulla cassa, altri tendono ad allontanare un pochino il polso. Dipende un pochino da quello che dobbiamo fare. Per adesso tieni una posizione neutra, quindi né appiccicato alle corde né lontanissimo con il polso, una posizione di mezzo che ti permette di toccare le corde, di pizzicarle con tranquillità. D'accordo? Ancora per quanto riguarda la mano destra, vediamo quindi come ci si muove sulle singole corde. Dovremmo pizzicare le corde, partiamo già con un'idea di pennata alternata, quindi con colpo di plettro in giù e colpo di plettro in su. Un esercizio potrebbe essere questo. Quindi muovendo il polso in su e in giù, suonare quattro note sulla corda più grossa, sul mi grosso, ok? Puoi fare la stessa cosa su tutte le altre corde, quindi un esercizio di questo tipo. Questo è il tuo primo esercizio che mette in movimento la mano destra, fallo avanti, indietro, più volte consecutive, parti dal micantino, ribalta l'esercizio, insomma, qualsiasi modalità di esercizio ti venga in mente che mette in moto la tua mano destra è un esercizio positivo perché la mano destra è il motore della chitarra e va messa in movimento. Notare che il movimento deve essere rettilineo dal basso verso l'alto e evitare movimenti rotatori come questo, ok? Il pletto deve salire e scendere, accarezzando la corda, va bene? Passiamo adesso a vedere invece la posizione della mano sinistra. La posizione, grosso modo, è questa. È una posizione piuttosto innaturale per chi non è un chitarrista. Quindi è una posizione che normalmente noi non assumiamo nella nostra quotidianità. Quindi è una posizione che va imparata da capo, va bene? Quindi le dita sono a martelletto. Cosa vuol dire a martelletto? Vuol dire che appoggiano in questo modo. Non piatte sul manico, ma arcuate con la punta del dito che va ad appoggiare sulla corda. Per questo si dice a martelletto. Poi un'altra cosa importante è la posizione del polso. Prova a guardarla. Il polso è piegato, è flesso in questo modo. Quindi non devo stare così, ma devo tenere il polso che è la parte più bassa della mano e del braccio, ok? Quindi è come se la mano fosse appesa al manico in qualche modo. Il pollice deve stare a scomparsa, quindi non si deve vedere sopra il manico. Deve stare nascosto dietro e deve stare piuttosto in posizione verticale dietro al manico. Quindi se vedi il pollice che comincia a sbilanciarsi da una parte o dall'altra, correggilo in linea di massima. Il pollice sta verticale dietro, va bene? Poi a seconda di quello che stai facendo, a seconda dell'accordo che stai facendo, il polso può subire leggeri aggiustamenti, ma di base il pollice deve stare verticale. E soprattutto, cosa importantissima, il pollice non deve mai piegarsi in questo modo dietro al manico, stare appoggiato così sul manico flesso. Non deve farlo, deve stare piatto, rilassato. Quando stai così è sinonimo di contrazione, la mano si irrigidisce e dopo pochi minuti dovrai smettere di suonare perché ti farà male la mano, va bene? Quindi evita assolutamente pollice piatto e rilassato, d'accordo? Vediamo adesso un esercizio di impostazione. Questo esercizio si chiama scala cromatica ed è così. Parti sulla corda più piccola, il mi cantino, e suona quattro note sui primi quattro tasti con le quattro dita. Quindi una cosa di questo tipo. Dopodiché l'esercizio opposto. Va bene? Molto probabilmente, la prima volta che lo farai, sentirai dei suoni che non sono molto belli. Questo per vari motivi. Per esempio perché sei troppo lontano dall'asticella di ferro che separa un tasto dall'altro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i primi tasti sono piuttosto larghi. Quindi io posso appoggiare il dito al centro del tasto, posso appoggiare il dito tutto a sinistra, posso appoggiare il dito tutto a destra rispetto al tasto. Ecco, questa è la cosa più corretta. Cioè appoggiarsi più a destra possibile, più in qua possibile, vicino alle asticelle di ferro che tendono a stare verso di me, verso di noi. Va bene? Quindi suonare in questo modo, stando sulle asticelle di ferro che stanno più in là rispetto ai tasti, è sbagliato e rischia di far suonare così. Con dei brutti suoni. Invece se io sto vicino alle asticelle di destra, quelle che delimitano il tasto dalla parte destra, il suono uscirà pulito. Ok? Allenati per produrre questi suoni puliti. Dopodiché riproduci lo stesso esercizio su tutte le corde. Adesso te lo faccio vedere velocemente, ma tu inizialmente fallo piano, eh. Ok? Questo è un esercizio di ritorno. In andata invece è così. Notare che io sto facendo un esercizio già appennata alternata. Quindi se avrai lavorato bene prima con la mano destra, ti sarai abituato a muovere il plettro in questa modalità alternata e potrai già applicare questa cosa della mano destra anche su questo lavoro della mano sinistra. Ecco, che tipo di importanza devono avere questi esercizi? Inizialmente fai sempre qualche minuto ogni giorno di questi esercizi di impostazione. Poi eventualmente più avanti potrai anche farne a meno, ma inizialmente fai questi esercizi tutti i giorni, non ore, ma qualche minuto, proprio quando prendi in mano la chitarra. Quindi anche come esercizi di riscaldamento e vedrai che le tue mani, dopo poco tempo, parlo magari di un paio di settimane, cominceranno a prendere la giusta forma, la giusta impostazione. Va bene? Ovviamente se ci fosse qualsiasi dubbio, non esitare a contattarmi. Anche eventualmente facendomi avere delle foto delle tue mani o dei filmati. Così potremo valutare insieme se la tua impostazione sta procedendo nel modo corretto o meno. Ciao e alla prossima lezione. Buon lavoro! Buon lavoro!